Buongiorno, benvenuti alla segna di oggi domenica 29 ottobre. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi. Beh, innanzitutto il tema che appassiona di più, a parte tutte le polemiche all'interno del PD che appassionano secondo me soltanto quattro gatti, cioè quelli che ancora sono all'interno del partito, la cosa che oggi tutti quanti i giornali mettono in evidenza è la storia dell'Appendino. Il sindaco di Torino devo dire che sta prendendo la stessa china di sfiga che hanno tutti gli altri sindaci del Movimento 5 Stelle, non ce n'è uno, mi sembra che non faccia un inciampo. C'è anche da dire che nei confronti dei Movimento 5 Stelle e dei loro amministratori non c'è minima indulgenza da parte della stampa, sia locale sia nazionale, perché sono lì col fucile puntato a vedere il primo errore che commettono. Ci sta tutto, perché sono quelli di onestà, 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 vogliamo cambiare tutto col passato, con le nostre amministrazioni è tutto diverso e poi ti accorgi che il capo di gabinetto dell'Appendino, ex Movimento Sociale, poi portaborse del PD, poi ex tutto e diventa capo di gabinetto e portavoce dell'Appendino, già questa è una figura che secondo me è strana, quella di essere sia capo di gabinetto sia portavoce, insomma questo capo di gabinetto si è dimesso in seguito a una raccomandazione che aveva fatto perché aveva chiamato l'azienda dei trasporti torinesi, l'AT&T che sta lì lì sul fallimento, lì lì per fallire e ha chiesto al suo amministratore delegato di indulgere su una multa da 90 euro, che poi se spagata nei primi 5 giorni pare fosse di 25 euro, secondo le cronache di oggi che ho letto sui giornali, di indulgere su questa multa di 90 euro perché la multa era, o in dubbio era comunque nei confronti di un amico del capo di gabinetto e il capo dell'azienda dei trasporti torinesi invece di attaccare il telefono così, lo richiama dopo un paio di giorni e dice tutto a posto per quella cosa che tu mi hai detto, anche con questo gergo un po' omertoso, quello che ormai siamo tutti quanti abituati a usare in televisione perché abbiamo paura di essere intercettati e di fatti era intercettato, era intercettato dalla guardia di finanza per la verità per un'altra inchiesta, il capo di gabinetto, altra inchiesta per cui la stessa Appendino è indagata e cioè aver spostato da un anno all'altro un debito nei confronti di un'azienda che il comune di Torino aveva preso anni fa quando a guidare Torino era Fassino, però spostata da un anno all'altro viene considerato falso in bilancio, una cosa di questo tipo. In questa inchiesta viene quindi intercettato anche il capo di gabinetto che fa una raccomandazione per una multa da 90 euro che poi sarebbero stati, ripeto, 25 se pagata in tempo. Ovviamente potete immaginarmi i titoli dei giornali più anti-grillini, forse il più divertente di oggi è quello del giornale che fa onestà tra la la, perché devo dire che viene da ridere l'idea di questo Movimento 5 Stelle che ha fatto dell'onestà e come ti giri c'è qualche figuraccia che le arriva. Ovviamente del Movimento 5 Stelle e coloro che mi ascoltano del Movimento 5 Stelle diranno figurati un po' che cosa fanno gli altri PD-L, L-PD, tutte queste robe qua, cosa fanno tutti gli altri sindaci. Evidentemente farlo fanno anche gli altri, non è che sto pensando minimamente che queste cose non avvengono, ma il punto non è quello che fa il capo di gabinetto dell'Appendino o quello che fanno i capi di gabinetto degli altri sindaci che ci hanno gestito fino ad oggi. Il vero punto è che purtroppo quando tu amministri una macchina comunale in cui ci sono burocrati che scegli fino a un certo punto e se gli scegli come avviene la raggia viene indagata, cose di questo tipo, incidenti di questo tipo possono avvenire. Tra l'altro mi sembra molto più grave quello che è successo nell'organizzazione che fece il capo di gabinetto con l'Appendino del San Carlo dove furono ferite 1500 persone per la loro imperizia, più che questa multa da 90 euro. Ma insomma siccome questo clima di caccia alle streghe e anche caccia alle multe l'hanno creato loro, devo dirvi la verità, è evidente che quando il coccodrilo ha fame si mangia anche il suo allevatore. Il titolo più divertente della giornata, non scherzo, è quello del Corriere della Sera. Gentiloni preme sul Renzi. Ma preme de che? Ma sembra una specie di, come possiamo dire, ossessione prostatica più che un titolo del Corriere della Sera. Poi insomma i pezzi ve li lascio perdere perché sono di interesse pari a zero. Forse può essere un po' più interessante l'idea che sta circolando sul Corriere della Sera ma non solo che il voto sia il 4 di marzo. Ma per quanto riguarda le pressioni di Gentiloni sul Renzi è una di quelle cose che fa ridere soltanto non solo nel titolo ma anche nel principio. Molto interessante un pezzo fatto oggi dal Corriere della Sera sui famosi o famigerati F-35. Un'altra di quelle ossessioni, in questo caso non prostatiche, ma ossessioni giustizialiste, pacifiste, sviluppiste della sinistra e del Movimento 5 Stelle. Ai ai ai, gli F-35 cadono, sono inutili, non servono a niente, ci costano troppo, l'ultimo gingillo della tecnica che non funziona. Può anche darsi, io non sono così bravo come loro nel sapere quello che hanno come funzioni questi F-35 della Lockheed Martin, eccetera. Però so che sono fatti in Italia a cameri e so che il fatto di aver ridotto le nostre acquisti da 120 a 90 fa sì che costino di più. Normalmente quando produci meno uno stesso prodotto hai economie di scalo evidentemente inferiori e come dice oggi il Corriere della Sera costranno ogni apparecchio 100 milioni di più, delle cifre senza senso. Questo fa sì che gli altri paesi europei che vogliono comprare gli F-35, olandesi, polacchi, non potranno più comprare dall'Italia ma gli converrà comprare dagli Stati Uniti perché non costerà di meno comprare dall'Italia grazie al fatto che l'Italia, lo stesso governo italiano, ha diminuito gli acquisti da 120 a 90. Insomma, in questa storia che è tutta da verificare ma che ha come unico nemico l'F-35 che è un aereo che dovrebbe sostituire le vecchie dotazioni italiane che vanno da Tornado agli Arrier, addirittura decollo verticale. Insomma, in questa storia oggi quella della sera tira fuori l'ex capo delle forze armate che sostiene la seguente cosa, è partito il primo volo dell'F-35, è andato bene, è partito tra l'altro il primo volo transatlantico tra l'Italia e gli Stati Uniti e l'Europa e gli Stati Uniti di un F-35, ebbene nessuno ne parla perché siamo in campagna elettorale e tutti hanno paura di parlare di questi F-35 che comunque sono indispensabili per la nostra sicurezza sui cieli. Questo dice l'ex capo delle forze armate oggi sul Corriere della Sera. Pezzo molto interessante, non interessante però quanto quello di Franco Becchis sul quale oggi concludo, che è stupendo, stupendo. Becchis oggi apre sul Libero e ci ricorda e ci dice che con una circolare del 25 ottobre, cioè di quattro giorni fa, sapete che è successo in Banca d'Italia? Hanno promosso 1.700 dipendenti, la cazzo di Banca d'Italia che ci racconta la meritocrazia, la selezione, la riduzione della spesa pubblica, ci fanno due palle così, hanno 7.000 dipendenti, non hanno più le funzioni di 20 anni fa perché è arrivata la BCE, di questi 7.000 dipendenti uno su quattro li promuovono così, in maniera generalizzata. Non è così? Io invito i miei amici della Banca d'Italia a mandarmi informazioni diverse rispetto a quelle dettagliate che oggi leggo da Franco Becchis sul Libero. Non si può più giustificare 1.700 passaggi di carriera, 1.700 passaggi di stipendio così, in maniera automatica, perché è un insulto all'Italia diciamo produttiva e meno produttiva e all'Italia privata e siccome la Banca d'Italia sempre con le sue considerazioni di visco che abbiamo riconfermato per sei anni sono lì che ci spiegano l'Italia meritocratica, a casa sua come sei meritocratico? A casa tua come stai diminuendo la spesa pubblica? A casa tua come stai contribuendo a ridurre il debito pubblico? Cosa che ci stai facendo due palle così per tutti quanti, ci stai dicendo che la spesa pensionistica deve diminuire, la spesa sanitaria deve diminuire, i tagli rispeghi devono diminuire. A casa tua che cosa stai facendo caro Ignazio Disco? Bene, quello che sta facendo è farsi abbracciare, prima uscita pubblica ieri di Ignazio Fisco, da Romano Prodi e viva l'indipendenza della Banca d'Italia, quella che se ti permetti di toccare con una dichiarazione e con una mozione del PD alla Camera, apriti cielo, contro l'autonomia della Banca d'Italia, poi insomma facciamoci un grande abbraccio con Romano Prodi. Immaginate quell'abbraccio con Renzi o immaginate quell'abbraccio con chiunque altro, sarebbe stato un abbraccio che avrebbe compromesso la centralità della Banca d'Italia se non fosse stato Visco e fosse stato non so Vegas della Consob o qualcun altro, invece Visco è intoccabile, la Banca d'Italia è intoccabile, questi supremi mandarini che comunque non fanno che fantastiche, grandi, nuove promozioni meritocratico. Ci vediamo domani, buon fine settimana.